Macro categoria imprese, categoria comunicazione e marketing. Il premio è quello di CEO dell'anno Home Restaurant Marketing and Promotion. Leggiamo insieme la motivazione. Per l'innovazione e l'originalità del progetto che trova la sua nascita nel social eating, settore di mercato all'interno della sharing economy, industria 4.0, per l'obiettivo costante della valorizzazione del turismo in Italia attraverso la cucina più famosa del mondo e l'offerta ai clienti di un servizio a 360 gradi. Il premio va a Gaetano Campolo, Home Restaurant Hotel. CEO dell'anno Gaetano Campolo, CEO di Home Restaurant Hotel, che è naturalmente collegato con me. Complimenti e benvenuto. Grazie, grazie a te, grazie a tutti gli amici di Le Fonti Awards. Un commento a caldo, subito, come prassi le chiedo questo. Allora, il premio è sicuramente una grande soddisfazione inaspettata, anche per via delle grandi aziende che hanno partecipato. Sia io che il mio staff, tutto il mio team abbiamo preso la stragrande ed è solamente, come abbiamo anche dichiarato a tutta la stampa che si è avvicinata, è solamente un pezzo di un mattone rispetto a un palazzo che stiamo costruendo. Quindi di conseguenza vi ringraziamo per questa premiazione che per noi è tanta forza. Insomma, mi ha offerto la seconda domanda praticamente su un piatto d'argento, nel senso che giustamente questo è solo una prima parte del palazzo che volete costruire, perciò sguardo proiettato al futuro e peraltro parliamo anche di settori che in questo momento hanno dovuto un po' rimodularsi proprio rispetto a quello che stiamo vivendo. Sì, allora noi come Home Restaurant Hotel in questo momento da marzo 2020 abbiamo lanciato il servizio Cucina e Consegna per affrontare il Covid-19. Cucinaeconsegna.it è un dominio acquistato dalla mia azienda, l'abbiamo integrato a Home Restaurant Hotel. Però prima di parlare di futuro che è sicuramente ampio, bisogna fare un passo indietro perché come lei sa benissimo il presente è figlio del passato e quindi di conseguenza oggi ancora in Italia manca una legge di settore, una legge che potrebbe permettere a noi operatori di settore di accedere a 3 milioni di euro fermi dall'Unione Europea. Questa legge è stata bloccata dal Ministro Calenda nel 2017 e questo ci dispiace perché il Ministro Calenda è europeista e parla spesso di Industria 4.0. Tolto questo aspettiamo la legge e visto anche l'antitrust che ci ha dato ragione, il Ministro dell'Interno che oggi ha previsto delle norme da rispettare, cosa che alcune piattaforme non rispettano in Italia e noi siamo l'unica piattaforma che comunichiamo in questura ogni Home Restaurant iscritto alla nostra associazione e che lavora 3 giorni a settimana, quindi occasionalmente, senza creare concorrenza ai ristoranti. E quindi per il futuro noi stiamo per aprire il punto com, l'Italia è solo un paese di 40 paesi in cui Home Restaurant Hotel andrà ad avviare Home Restaurant e Home Restaurant Hotel, proprio B&B più Home Restaurant e ovviamente la speranza sia quella di tenere l'azienda in Italia e non di delocalizzare come ci stanno chiedendo in tanti in questo momento perché ci sono nazioni più intelligenti dei nostri politici. Insomma sì, la valorizzazione dell'Italia, credo che parta tutto da lì, altrimenti non facciamo nulla, se dobbiamo rinascere e ripartire, anzi più che rinascere e ripartire, perché mi auguro che le basi siano state poste dalla maggioranza, bisogna valorizzare sempre più il nostro paese che non ha nulla da invidiare ad altri, su questo io la seguo perfettamente. Quindi la ringrazio, io ringrazio lei, Gatano Campolo, CEO di Home Restaurant Hotel e naturalmente insomma ci riaggiorniamo più avanti, sperando in tanti altri riconoscimenti. Grazie a voi, vi invito a fare un'esperienza in Home Restaurant con la nostra piattaforma a un'ora di distanza da ogni città italiana, trovate un punto di riferimento, un nostro ambasciatore, noi li chiamiamo ambasciatori del cibo. Questo premio lo vorrei dedicare soprattutto alla mia famiglia che ovviamente mi ha permesso con fondi privati nostri di essere qua oggi. Con rammarico purtroppo ho dovuto già delocalizzare da Reggio Calabria a Firenze la mia azienda, perché Reggio Calabria politicamente purtroppo è come stiamo vedendo in questi giorni la Calabria. Va bene, va bene, va bene, certo. Insomma, che sia tutto di buon auspicio per guardare sempre al meglio il futuro. Grazie ancora e a presto. Certo, assolutamente. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi.